C'è da fare la revisione dell'auto? Nessun problema. Area di servizio esso con gli Andro Demetrio SAS. All'Azzaro. Affidaci il tuo mezzo con la massima fiducia. La revisione in pochi minuti su veicoli fino a 35 quintali e moto. Guida in sicurezza. Fai un controllo periodico delle gomme. Da noi trovi pneumatici plurimarche con grandi offerte. Servizio convergenza ed equilibratura, cambio olio e filtri, una vasta gamma di bicicletti Atala. Officina. Servizi rapidi ed efficienti, ma non solo. Concediti una pausa al nostro bar o alla tavola calda. E poi, ricariche telefoniche, valori bollati, pagamenti online e prezzi davvero imbattibili sui carburanti. Area di servizio esso con gli Andro Demetrio SAS. Strada statale 106. L'Azzaro. Dal 1958 una realtà al servizio di una clientela sempre soddisfatta. Per info 0965 71 30 56.